È cresciuta la collaborazione con la Polizia di Stato che devo ricordare e sottolineare che è nata con loro, cioè dal primo anno che la Polizia di Stato ci affianca in questo progetto e quindi la Polizia di Stato è testimonianza di come è cresciuto piano piano, come un dolce che lievita questa manifestazione. Questo grazie alla presenza comunque delle altre istituzioni, abbiamo la sanità militare quest'anno, quindi tutte le interforze che sono qua non solo con loro apparati di richiamo, ma anche con tutti i medici, quindi è ampiamente istituzionale, abbiamo ampliato anche le strutture sanitarie che non è solamente il Polichino Gemelli di cui è nato il progetto, ma proprio per aumentare la possibilità della gente di fare più visite, che è questo nostro obiettivo, abbiamo inserito altre strutture che volontariamente sono venute qua, tipo l'ospedale Cristore, il San Carlo di Nanzì, Villa Betania, Villa Tiberia, cioè tutte strutture sanitarie che con i medici volontari nel weekend si adoperano affinché sia da una parte facciano le visite ma dall'altra possono divulgare il più possibile il messaggio della prevenzione.